La Brunori Sasa ha allestito un taxi che ci condurrà la salvezza. Informiamo il gentile pubblico che Brunori sta arrivando. Sta arrivando. Sta arrivando. Siete pregati di esagerare. Alla fine ti sei sposato, alla fine l'hai fatto in chiesa. Alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato. Il televisore al plasma e il divano cammellato. E' il tempo delle molotov, tutti pazzi per Maria. Ufficiali e gentiluomini della polizia. Non ti rincorrono più. Aiaiaia, è un bomba precario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario?